e benvenuti ragazzi sono jesse e questo nuovo video oggi siamo a fare un po di minigame misti adesso non ho bene idea di quali minigame farò però ci vediamo un po di subito in partita per vedere che minigame mi sono usciti fuori cioè diciamo quelli che ho deciso di fare quindi ci chiudiamo in game bella raga siamo entrati in game siamo in propante no magari piccone sono un piccone questa è nuova io ricordo di poter essere solo blocchi perfetto allora dicevo io e da una vita che non faccio più propante tu sei un blocco e già questa mi è nuova cioè essere un item al posto di un blocco attimo attenzione non mi ha sgamato un attimo ok raga mi sono spostato un attimo perché almeno così evito di farmi sgamare magari qui sopra notano meno forse notano meno se vi chiedete perché ho la minimappa perché sono entrato visto che volevo fare il video di corsa perché anche tardi ho deciso di c'è sono entrato con il primo profilo che avevo aperto che era dell'112 forge perché è quello che quando uso per giocare in privato con i miei amici in un server che ovviamente ho la optify nella minimappa e basta anche la replay mode però quella non conta più di tanto e allora non c'è non ci ho fatto caso ne sono accorto poco fa però sto punto pace però aspetta yei non mi ha sgamato allora io direi che comunque la partita sta andando abbastanza bene quanto abbiamo ancora 3 minuti e 20 per vincere e siamo c'è sono c'è lui non ha ancora trovato nessuno sul serio ok c'è quello o questo qua non ho sbagliato questo gioco non è propante beh oppure questo qua non sa non sa cercare cioè non sa cacciare se no raga eccolo è ancora lì che cerca qualcuno lo stanno stannando tutti sto pover ragazzo è ancora lì che cerca poveretto o sta cercando i blocchi non si è non ha capito che è disorientato quanto me che non sono blocchi ma sono item quindi non lo sa oppure c'è qualcosa che non va ok ce ne sono due cacciatori ora e bisogna vedere adesso l'altro cacciatore se è un po' più competente senza offesa a il nostro buon renato ninja 999 mi metto qua perché se no tra l'altro stasera volevo registrare la l'arcore però è successo che sono entrato nel mondo e ho detto sì tutto tranquillo registro un po' mentre faccio la casa così parlo un po' non c'è sono entrato avevo sentito di sta cosa ma non mi sono più ricordato quindi nell'ultimo snapshot uscito non è compatibile con i mondi salvati in tutte le altre versioni che siano la 1.12 la 1.11 e roba del genere oppure gli snapshot dei vari delle varie modalità snapshot della 1.13 e quindi cosa è successo entro mi ritrovo l'inventario tutto a posto l'inventario era tutto a posto però mi guardo in giro le si è resettata la mappa cioè non è una mappa diversa sempre la stessa mappa però come l'avessi appena generato il mondo quindi mi sono trovato dentro la casa dove avevo chiuso l'episodio precedente però era tutta allegata di nuovo senza niente di costruito allora ho dovuto prima di tutto svuotarla di nuovo cioè ricostruire la sua tale poi mi sono messo a mettere su due blocchi giusto per espanderla poi per fare qualcosa di decente magari lo faccio in un video perché sinceramente non so neanche io tantissimo bene cosa farci abbiamo vinto bene già da una vittoria veramente easy questa poi rischi gg cioè per dire sì cioè abbiamo andata bene bene raga ci vediamo al prossimo minigame bella raga siamo in murder e a quanto pare siamo le vittime ok sarà selezionato il murder tra poco cioè in senso di dare una spada al murder tra poco poi gun in due ore io non mi ricordo più non mi ricordo se se non erro cos'è che ho arrivato 10 di ore dovrebbe givarmi cioè dovrebbe dropparmi la cosa di la zappa non ne sono sicuro io tipo questa mappa non la vedo lui che scappa dall'altra ok no non vedo così che segue infatti mi mette un po disagio fanno un po paura questi qua tu mi stia mettendo tanto passivo come cosa oh non me l'ha preso ecco non me l'ha preso mio c'è uno con lo schindialo questo è a caso allora eccolo ora tutto a posto cos'è guarda in place leave the street stante one star no che vuol dire non ho capito you win questo cos'è ah c'è tipo successo qualcosa infatti sugli attivi delle strade sono tolto si vede che il murder era sulla strada vabbè così a caso facciamone un'altra va ok ci siamo raga ci siamo ora ora sono già qua a grabare ora a volontà ok adesso saranno la spada del murder non ho ancora capito bene cosa è successo magari mi verrà in mente riguardandomi il video però ora come ora non ci ho capito niente però abbiamo vinto diciamo che per essere la prima volta che da un anno più o meno che faccio i mini game gg faccio vediamo un po cos'è cactus clean boh allora quello no hanno fatto veramente la cosa che che rotola dei film western gg per i pixel veramente questa è un tocco di classe allora cioè io non gioco con minecraft seriamente da una vita con l'hardcore mi sto iniziando a giocare e ora con i mini game raga sto entrando anche nei server è allucinante no mi son bugato ok tu mi sembri il murder anche tu mi sembri il murder tutti mi sembri il murder finché non so chi è il murder allora siamo ancora 12 vivi quindi non ho ancora ucciso nessuno non ho capito survived 30 secondi però tu hai un cavallo dove qualcuno senti no è morto uno è morto uno attenzione allora ora no è giù no è morto un altro era lì mi sa che era quello là è lui è lui è lui mi sa che è lui ottimo io non so se rischiarmela raga io lo seguo raga non so che dirvi il losco roschissimo no l'arco però chi è il murder io ero convinto fosse lui ora sono preoccupatissimo che sia quello è il cavallo no anche lui è il cavallo quindi non può esserci più di un murder credo però te giri in tondo però non so se quanto puoi essere un rassicurante è morto qualcun altro raga no hanno chiedato il detective perfetto tu però tu quanto sei inquietante così no dai quelli che mettono la cosa all'indietro ah abbiamo vinto yeah tanto mai boh non so che dire raga stiamo continuando a vincere così easy proviamo ancora a fare un altro di murder perché mi ha preso bene poi di tanto editando il video ve l'ho accorto magari dopo questa di murder farò qualcos'altro eccoci sempre stessa mappa sempre innocenti quindi 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 qua scrive una roba a caso mard ok ah il cavallo si comprava qui ecco come mai c'era gente a cavallo tanto la priorità ora loro dà la priorità per l'arma non so adesso se il murder cosa ha intenzione di fare cioè il player che fa il murder è la stessa cosa yeah raga si vede che è tardi ho sonno tanto sonno spero anche di editare questo video in tempo per caricarlo vabbè per un giorno per caricarlo quindi ok siamo ottenere ragazzi stiamo raccogliendo loro molto violentamente rispetto alle partite precedenti e non so se c'è un male non so se un bene o un male 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 abbiamo vinto di nuovo yeah quelle vittorie quelle proprio sudate ragazzi ci vediamo al prossimo minigame bella ragazzi siamo in tnt run no 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 piano piano ancora a sì 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 sta già rompendo no porco schifo raga perfetto questo sono il primo il primo no ok c'è altra gente questa cosa mi conforta un pochettino cacchio devo scegliere tnt tag perché tnt run sono abbastanza scarso abbastanza vuole allenamento anche perché una volta riuscivo ancora a fare qualcosa cos'è che cacchio è cioè c'è il doppio salto raga no ho fatto il doppio salto quando non avevo il doppio salto a meno è una segna di dire raga quante cose che non so allora per poco raga per poco non mi prendeva ok no ho tirato un laghettino prumento di connessione no 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 raga è un laghettino di frame ma non riesco a capire il motivo piano tu vabbè questo qua proprio sul bordo aiuto 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 no 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 raga no vabbè raga al prossimo minigame facciamo ancora uno no ah sì sì sono entrato già nella parola proprio subito non mi non ho ancora avuto il tempo di elaborare quindi sono già subito spawnato con la tnt tanto tanto per cacchio ok ok va bene esplosione tra meno di 30 secondi io salto qua qua c'è un pezzo maledetto no 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 sì tu vieni qui 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 Uno sito da tnt ora all e una volta il round e siamo sopravvissuti e questo è già tanto e oggi tra l'altro mi fa male un dito non riesco a giocare mi fa male il tasto Standardaz dagli spessi della w! No siete delle persone malvag子!!! no no e che cacchia voglio cannó no 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 mystery Proprio questo è autolesionismo No, vado, vado, vado No, maledette Ti prendo, ti, ti, io ti prendo Vabbè, no, raga No, ok, bye bye raga, è stato bello Non ci posso credere Vabbè raga, con questo Finale tragico, io vi saluto Da Genesitutto, ciao A tutti, bella Ciao